Siamo con il dottore Vittorio Verzillo, candidato presidente a ricoprire ruolo importante e notevole e quindi candidato alla lista numero 2 rinnovamento e condivisione per l'ordine dei dottori commercialisti. Le chiedo quali novità apporterete in caso di vittoria e quindi che aria si respirerà poi a partire dopo le elezioni del 3-4 novembre? Sicuramente noi abbiamo intenzione di istituire una sezione del sito istituzionale dedicata alla trasparenza nella quale pubblicare le delibere e tutti gli atti del Consiglio, non solo, ma anche comunicare tutti gli incarichi assegnati per i quali procederemo sicuramente con un sorteggio e abbiamo oltresì previsto per quegli incarichi di maggiore complessità la possibilità, anzi l'obbligo di affiancare il professionista esperto diciamo con la designazione di un giovane professionista in modo da consentire anche ai giovani professionisti di poter concorrere su incarichi di maggiore prestigio. C'è un messaggio che vuole che passi ai suoi elettori? Innanzitutto un messaggio di partecipazione notevole alla competizione, quindi di affluenza e poi prima del voto una considerazione su quello che può essere il ruolo che i commercialisti intendano dare al nuovo Consiglio, che a nostro giudizio deve essere un ruolo di maggiore presenza sul territorio e di maggiore visibilità anche presso gli enti. Da Alvignano è tutto per casertasera.it, Bartolomeo Valentino